di Cristo sulla croce. E io gli ho detto, guardi, l'esempio mi sembra assolutamente pertinente anche per la mia sensibilità in materia di giustizia perché l'esempio di Cristo evidenziò immediatamente le esigenze di un giusto processo e i limiti della giustizia popolare, delle giurie popolari. I limiti delle giurie popolari. E però se noi riconosciamo che errare dell'uomo non è crudeltà sovrumana alla giustizia, diceva Pirandello nel Fumatia Pascal. Quindi il dubbio, la domanda di come lo Stato debba erogare giustizia si sintetizza poi in quello splendido articolo della Costituzione che dice che la finalità ultima è l'uomo, rieducare l'uomo e fare sì che il trattamento detentivo non sia contrario al senso di umanità senza dimenticare che fuori da quegli istituti ci sono mamme, bambini, donne, uomini che piangono perché hanno subito un torto e che il sistema di riparazione che lo Stato deve mettere in atto è un sistema di riparazione che deve rieducare il detenuto e non fare sentire la vittima del reato vittima ulteriore di una dimenticanza dello Stato. Ecco, questo è l'insieme.